Quattro paesi super cripto friendly nel 2022, perlomeno in questa prima metà del 2022. Oggi registriamo il video e la prima metà di febbraio, le cose cambiano molto rapidamente all'interno del settore crypto NFT che vedremo poi in seguito, quello che sto per dirvi però è validissimo al giorno d'oggi e rimarrà bailo per tutto il 2022. Sicuramente ci saranno però delle new entry. Quali sono questi quattro paesi che voglio regalarti in questo video rapidissimo? Te lo dico tra un secondo, sai, la pazienza di aspettarmi dopo la silla. Ciao, sono Luca Tagliela Tela e tu sei sul canale di Taxplending Internazionale. Se sei un abituer del canale non devi fare subscribe ma devi mettere like. Se invece sei nuovo ti invito a iscriverti al canale e a mettermi like altrettanto. Dopodiché deciderai se lasciarmelo alla fine del video, se ti avrò soddisfatto con la qualità che spero di darti con il mio video di oggi. Partiamo immediatamente, cerchiamo di capire quali sono questi quattro paesi, quattro che possono fare la differenza. Se per esempio penso ad una relocation personale perché sono un cripto investitore e sto pensando di realizzare una capital gain, una plus valenza da gestione cripto nel 2022 o dal 2022 in avanti se le regolamentazioni non vanno a cambiare. Quali sono allora questi quattro paesi super cripto friendly? Partiamo dall'ovvio, partiamo cioè da Dubai. Dubai non smentisce la sua presenza nella top 10, ma direi nella top 3 in realtà, dei paesi cripto friendly. Che cos'è un paese cripto friendly? Un paese dove non solo non sei costretto a pagare tasse sulla plus valenza da cessioni o da conversione delle cripto in altre cripto. o anche nell'acquisto di beni materiali, ricordiamo che in molti paesi ti tassano anche se con le cripto compri beni o servizi. Anche quella è considerata una realizzazione, un evento realizzativo ai fini della tassazione. Per cui facciamo molto attenzione, molti dei miei clienti mi chiamano Luca, ho incassato in cripto, allora non ci pago le tasse. Non è così, bisogna distinguere l'investimento in cripto dall'incazzare ricavi o determinate fatti specie individuali in cripto. Ma questo è un consiglio che volevo regalarti. Torniamo a Dubai, perché Dubai è interessante, interessante non soltanto e unicamente perché chiaramente non c'è tassazione a livello personale nell'eventualità in cui vado a realizzare capital gain, ma soprattutto è interessante per due motivi principali per quanto mi riguarda. Cioè per l'environment che si è creato, quindi investitori cripto da ogni parte del mondo e hub, cripto che si stanno sviluppando sul tema, free zone dedicate agli investimenti o comunque in ogni caso diciamo fatte in maniera tale che si sviluppino delle infrastrutture, delle start-up cripto. E numero due, molto interessante anche la possibilità che si ha di fare cash out, se non proprio sulle banche emiratine, però su tutto quel complesso di banche che girano all'interno degli emirati arabi. Questo è un altro consiglio che ti do quando ti trasferisci in ogni caso, se hai intenzione o se già vivi all'interno degli emirati arabi uniti, se già non l'hai fatto conoscerai sicuramente tutta la scomodità o la non perfetta funzionalità senza levare niente a nessuno delle banche locali, ma è necessario, interessante e può aiutare a avere conti correnti anche al di là dei confini emiratini. Esistono determinate giurisdizioni che permettono senza grossi problemi anche a residenti emiratini di avere conti correnti e che sono criptofrendili, quindi esistono altre giurisdizioni al di là di quella emiratina che ti permettono di fare il cash out. Quindi in questa maniera tu che cosa hai? Hai il meglio del meglio, cioè la non tassazione perché hai la residenza fiscale a Dubai e però hai una banca criptofrendili che non ti tassa, perché se sei fiscalmente residente a Dubai l'unico autorizzato a tassarti e che quindi non lo fa è Dubai, ma sei nella capacità, nella possibilità, nel diritto pieno di avere accesso ad altri conti correnti. Avere in un paese criptofrendili vuol dire che la banca ti fa fare cash out. Evidentemente ci sarà l'antimony londering, evidentemente ormai viviamo nell'epoca dell'antimony londering, delle KYC, dello pieno scambio di informazioni, quindi comunque non devono essere soldi diciamo riciclati così sotto sei, però in questa maniera riusciamo a ottenere appunto il meglio del meglio e Dubai ha ottimi rapporti interbancari, bancari con altre giurisdizioni, quindi ci si può lavorare molto bene in questo senso. Numero due, qual è l'altro paese di cui ti voglio parlare oggi? Oggi se mi segui da un po' lo sai, altrimenti sei nuovo, te lo dico lo stesso, è il Portogallo. Ricordiamo che siamo nel 2022, quindi come dire, la regolamentazione in materia cripto e in effetti in questo momento, ripeto, febbraio 2022, non esiste in Portogallo, quindi ci sono delle interpretazioni, agenzia delle entrate, autorità tributarie, si basano su precedenti interpretazioni che riguardano la tassazione dei redditi finanziari, diciamo che anche il Portogallo opera una distinzione, perlomeno in teoria, lo ripeto, perché non c'è una regolamentazione vera e propria, tra amatore e professionista, sul punto, sia per quanto riguarda le cripto, sia per quanto riguarda la tassazione degli NFT, chiedo scusa, prometto un video super approfondito sul Portogallo che fa il punto dalla A alla Z di quello che si può fare e quello che non si può fare, quindi rimani connesso al nostro canale. Per oggi ti basti sapere che in Europa il Portogallo è comunque uno dei paesi più cripto-friendly, se non altro perché non esiste ad oggi l'obbligo di monitoraggio, quindi quel casino bestiale che sei costretto a fare in Italia, ma in realtà in tante altre giurisdizioni come l'RW, quindi l'obbligo di ricostruzione, ad oggi, perlomeno al momento in cui parlo, in Portogallo non esiste per i neoresidenti e quindi questo già ci dà la capacità, la disponibilità, la serenità mentale anche, di affrontare gli investimenti con un po' più di serenità, appunto perché non devo andare a ricordare a costruire qualsiasi cosa come se fossi un evasore, a prescindere da quello che faccio, perché questo è l'approccio dello Stato se mi dice che devo movimentare e dimostrare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, ma questo è un altro, lasciamo i giudizi personali, li lasciamo alle consulenze private quando mi chiamate nel one to one, quello che dovete sapere è che oggi il Portogallo rimane nella top 3 dei paesi più cripto-friendly e anche lo ricordiamo, il Portogallo ha ottimi rapporti, ha ottime istituzioni bancarie, ma ottimi rapporti bancari con paesi anche al di là del Portogallo. Numero 3, qual è il terzo paese, il terzo paese da prendere in considerazione, molto vicino all'Italia è Malta, per quale motivo è Crypto-friendly, facciamo una grossa distinzione, conti correnti a Malta non ne puoi avere, però se sei un investitore di lungo periodo e quindi non sei uno che trada nel day by day, non fai diciamo speculazioni di breve periodo, le plus, i capital gain da cripto non sono tassate, quindi sì lungo periodo, nel senso che non ho tassazioni se è un po' quello che avviene in Germania fondamentalmente, nel breve invece subisco una tassazione che poi è quella progressiva da redditi personali, che va dal 15 al 35%, ok? quindi Malta è un paradiso fiscale a metà, diciamo che è Crypto-friendly a metà, ci sono anche tre ATM, curiosità diciamo del giorno, tre ATM Bitcoin, tra cui uno solo sull'isola di Gozo, io ho anche qualche cliente che se mi sta ascoltando mezzo matto che vive sull'isola di Gozo e vive felice, quindi lui tra l'altro essendo un investitore può andare a questo ATM, adesso me l'ha detto lui che c'era, altrimenti io non l'avrei saputo, ok? Il quarto paese, diciamo lasciando per un momento l'Europa senza arrivare, diciamo senza fare video super lunghi, il quarto paese interessante che è un po' più una curiosità che altro e viene utilizzato soprattutto dai non new resident, cioè fondamentalmente dagli statunitensi in cerca di un secondo passaporto è Antigua e Barbuda, Antigua e Barbuda in realtà appunto ha questi programmi, a questi citizenship by investment program, per cui puoi prendere fondamentalmente la residenza, ma il passaporto in realtà a tutti gli effetti investendo circa 130 mila dollari e la notizia, il fun fact del giorno è che lo puoi comprare direttamente in cripto, comunque puoi fare investimenti immobiliari o anche girare in Lamborghini se te la fanno portare sull'isola di Antigua puoi comprarla in cripto, quindi essere cripto-friendly in questo caso non vuol dire soltanto che non esiste nessun tipo di tassazione mai sulle plus da cripto, sia che tu compri beni e servizi, sia che tu realizzi una plus perché ne ha aumentato il valore, lo cedi, sia perché tu compri una cripto diversa da quella che hai in pancia nel tuo portafogli, la tassazione non c'è. Certo, Antigua e Barbuda chiaramente, lo ripeto, era più, sicuramente così come come Porto Rico lì vicino, sono mercati che strizzano l'occhio fondamentalmente alla seconda cittadinanza degli stati unitensi che come sapete sono tassati tipo reddi o di cittadinanza, però tutto il contrario, non gli regalano soldi ma li tassano perché hanno il passaporto americano. Allora negli Caraibi hanno inventato questo mercato secondario che però è utilizzabile chiaramente anche da noi, è super interessante, insomma io ho clienti che hanno deciso di trasferirsi perlomeno temporaneamente nei Caraibi. La chiudo qui, spero che questo contenuto ti sia piaciuto, se non l'hai fatto di nuovo ti invito a iscriverti al canale, a lasciarmi like, per una consulenza trovi il link in descrizione e noi ci ritroviamo nel prossimo video.